Ancora una volta Papa Francesco si chinea con tenerezza sulla sofferenza abbracciando i malati della Casa di Carità di Nalukolongo e rivolge un appello a tutte le parrocchie e comunità dell'Uganda e di tutta l'Africa a non dimenticare i poveri. Lo fa nel terzo appuntamento della sua intensa giornata in Uganda visitando la casa fondata nel 1978 dal Cardinal Nesubuga che ospite e cura un centinaio di poveri di tutte le religioni. Nel suo saluto il Papa denuncia che in molti luoghi del mondo sembra che si stiano diffondendo l'egoismo e l'indifferenza e molti fratelli e sorelle sono vittime dell'odierna cultura dell'usa e getta che in genera disprezzo soprattutto nei confronti dei bambini non nati, dei giovani e degli anziani. In quanto cristiani, prosegue il Pontefice, non possiamo semplicemente stare a guardare qualcosa deve cambiare, le nostre famiglie devono diventare segni ancora più evidenti dell'amore paziente e misericordioso di Dio non solo per i nostri figli e non si anziani ma per tutti coloro che si trovano nel bisogno. Le nostre parrocchie non devono chiudere le porte e le orecchie al grido dei poveri. In questo modo, conclude Papa Francesco, diamo testimonianza al Signore che è venuto non per essere servito ma per servire. Mostriamo che le persone contano più delle cose e che quello che siamo è più importante di ciò che possediamo.